Hey Robin, ma tu perché fai quello che fai? Che modifici ha di interessante? Sentiamo un po', c'ha da dire qualcosa? Faccio quello che faccio perché mi piace proprio fare qualcosa che rende soddisfatte e felice le altre persone, che le eccita, che le fomenta, che dicono, porco vai, posso fare questo, anch'io, sono un potenziale inespresso. La passione è nata facendo il disc jockey, perché quando senti, scegliendo i pezzi giusti, mettendo la sequenza che loro neanche si aspetta, indovinando dei mix spettacolari, quanta energia tu riesci a tirar fuori, allora, poi dopo quando cerchi qualcosa di ancora più profondo e spesso per dare significato alle cose, a quello che fai, allo scopo, che dire, della tua vita, nel mio caso, avrei scoperto che è possibile fare da propulsore alle idee, alle capacità, alle passioni, soprattutto degli altri, dandogli le ali quando c'è carburante a sufficienza e ciò che mi fa fare quello che faccio, perché voglio, perché mi piace pensare che siano proprio i piccoli, gli individui, non le grandi aziende, organizzazioni che possono cambiare le cose più rapidamente di quanto uno possa pensare, è da noi piccolini che parte tutto quanto, quindi a me piace rimboccarmi le maniche e vedere che si può contagiare anche il proprio vicino e far succedere delle belle cose, bene! Good night!